Invece dei moduli di iscrizione gli hanno mandato un contratto per insegnare. Voleva iscriversi all'Università di Pisa per conseguire la sua seconda laurea, ma quando hanno visto il suo curriculum sono rimasti talmente impressionati da chiamarlo ad insegnare nel prestigioso Ateneo Toscano. Troppo qualificato il farmacista di Sala Consilina Diego Di Novella per poter essere considerato un semplice studente universitario e per lui la seconda laurea dovrà restare un sogno nel cassetto, almeno per il momento. Diego, da sempre studioso, appassionato di alimentazione e nutrizione in rapporto alla qualità della vita e al benessere, sarà infatti a Pisa, ma dall'altra parte della cattedra, a tenere importanti seminari validi per i crediti formativi nell'ambito del corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana. Una grande soddisfazione per il 39enne valdianese che rientra a pieno titolo nella schiera dei talenti territoriali capaci di dare lustro e vanto con le loro attività all'intera comunità. Una storia bellissima. Sì, una storia simpatica, inusuale anche un po' di questi tempi. Avevo scritto all'Università di Pisa perché a me ha sempre incuriosito, anzi ancora di più affascinato, il mondo della nutrizione e dell'alimentazione in generale, il valore del cibo in funzione alla nostra qualità della vita, non solo, ma anche al nostro benessere e alla nostra salute. Così ho sempre pensato di approfondire questa simpatia verso questo mondo e volevo prendere una seconda laurea in Scienze della Nutrizione Umana. Affacciandomi al panorama dell'offerta formativa, ho visto che l'Università di Pisa organizzava un corso molto valido, così ho scritto documentando la mia laurea e allegando un curriculum per far vedere quanti esami e quali potevano convalidarmi per velocizzare un po' questo percorso. Loro mi hanno risposto quasi non prendendo in considerazione la mia richiesta di iscrizione al corso e sono rimasti impressionati da un lavoro che riportavo nel curriculum che ho fatto tre anni fa sulle interazioni tra farmaci, alimenti e piante medicinali. È un lavoro grandissimo, ancora oggi a distanza di tre anni è l'unico nel panorama dell'informazione scientifica mondiale a trattare l'argomento in maniera così ampia, sono oltre 50.000 interazioni e anche per il rigore delle fonti a cui ho attinto e per facilità di consultazione. Hanno voluto quindi una documentazione un po' più approfondita sull'argomento e dopo qualche settimana mi sono visto recapitare un contratto con cui mi chiedevano di tenere una serie di seminari. Si sono riuniti d'urgenza poi perché il Consiglio di Facoltà aveva già stabilito quale fosse l'offerta formativa per 2016-2017. Infatti non è stato possibile, come loro mi dicono avrebbero voluto inserire un nuovo insegnamento proprio nel corso di laurea su questa materia, farò dei seminari che comunque entrano nell'offerta formativa dell'università tant'è vero che darà dei crediti agli studenti che parteciperanno. Questo per ora è una cosa che appaga tantissimo il mio percorso di studi e professionale. Di là poi si dovrà vedere perché potrebbe diventare incompatibile con il mio lavoro che rimane comunque sempre questo. Tu sei un esempio dei cervelli del Vallo di Diano che non sono in fuga, che sono rimasti qui. L'esempio è anche il tuo lavoro. Sì, molto modestamente perché non sono assolutamente uno scienziato, quindi sono lontanissimo dall'essere un ricercatore di fama nemmeno nazionale. Più che altro da questa storia simpatica si evince che l'università forse sta un pochino ampliando i suoi orizzonti, nel senso che mentre prima era un sistema eccessivamente chiuso nell'immaginario collettivo, il sistema dell'università è impenetrabile. Adesso invece pare voglia affacciarsi anche al mondo delle professioni, quindi attingere anche dalle esperienze reali che forse i nuovi laureati, i professionisti del domani, avranno bisogno di conoscere. Quindi restare un po' meno ancorati alla teoria e affacciarsi un pochino più sulla terra. Ecco, tanto è vero quello che stai dicendo e che ci hai raccontato un episodio simpatico che è successo. Sì, quando il ragioniere dell'università mi ha inviato il contratto non sapeva come inquadrarmi, perché era l'unica volta che un professionista, un libero professionista, andava a fare delle lezioni da loro, quindi doveva comunque essere inquadrato fiscalmente nei loro regimi. Io non ho come oggetto della mia partita IVA l'insegnamento e a quel punto ho detto, guardate, ormai vengo anche gratis, tanto non è una cifra che cambia la vita di una persona, è più che altro un'enorme soddisfazione personale. Alla fine hanno trovato come inquadrarmi nelle loro fiscalità e anche questo si è risolto. Ringrazio anche quanti mi hanno voluto esprimere la loro gioia per quello che è successo. Grazie.